Io sono Livia Chiriotti di Pasticceria Internazionale, Chiriotti Editori. Ho il piacere di festeggiare i 20 anni di Carpigiani Gelato University perché abbiamo avuto l'onore di essere partner del progetto del ricettario che raccoglie tutte le ricette dei più grandi docenti di tutti i continenti che fanno parte delle varie realtà formative della Carpigiani Gelato University. Il Kaleidoscopio è un progetto frizzante, multicromatico e multiculturale studiato con il team di Kaori e di tutta la squadra della Carpigiani Gelato University per far sì che fosse diffuso e ancora più rafforzato il concetto di cultura del gelato nel mondo. Attraverso i docenti della Carpigiani Gelato University il gelato viene interpretato, viene amato in tantissime maniere ed è affascinante vedere questo Kaleidoscopio di ricette che variano tantissimo con un unico grande amore che è il gelato.